E' da pochi giorni il rettore di Trieste Roberto Di Lenarda e sono molti i propositi per i suoi sei anni di mandato a cominciare dal ruolo dell'università in ESOF 2020, l'evento europeo della scienza di Trieste del prossimo anno. Unire città e istituzioni scientifiche Ateneo è uno dei suoi obiettivi, per esempio facendo di cattinare un centro di ricerca didattica medico-scientifica, tema carissimo a lui che proviene dalla direzione del Dipartimento di Medicina. Un'idea che viene da lontano, che potrebbe avere delle potenzialità di sviluppo. I tempi dovranno essere più brevi, si augura il rettore del trasferimento del burlo a Cattinara. Per anni abbiamo perso tempo a discutere se era bene o era male, la mia speranza è che per le idee buone si possa arrivare presto a concretizzazione. Un'altra idea, se ne ragiono col Ministero, è l'apertura di un centro multidisciplinare di intelligenza artificiale che potrebbe coinvolgere anche il sistema del porto. Sul tema della consegna alla minoranza slovena dell'ex Narodni Dom di Lenarda pone solo un paletto. Io sono ovviamente rispettoso delle leggi, di quanto l'istituzione ci chiede e di tutta evidenza che lo spostamento si potrà fare nel momento in cui ci sarà la possibilità di un posizionamento con pari dignità e pari possibilità formativa e di ricerca per le ex scuole interpreti che è attualmente in quell'edificio. Sul numero degli iscritti, attualmente circa 15.000, di Lenarda vorrebbe per quanto possibile crescere e avvicinarsi ai 20.000 entro la fine del suo mandato, ma l'obiettivo ambizioso non dipende solo dalla capacità di attrazione dell'Ateneo. Dobbiamo essere capaci di fare un'offerta formativa di qualità in grado di essere recettiva anche delle esigenze del settore produttivo e di pescare anche dai nostri paesi vicini. Intanto, nelle prossime settimane sarà designato il direttore generale, ovvero il dirigente Massimo, che avrà il compito di guidare la macchina amministrativa. Al bando di selezione per una carica con una remunerazione di circa 200.000 euro l'anno, hanno partecipato in 19 quasi tutti provenienti da fuori regione. di registrazione.